Attenzione! Importanti novità per tutti coloro che stanno aspettando pagamenti dall'IMPS, inclusi assegni di inclusione, formazione lavoro e supporti per disabilità. Ma la notizia che sta facendo scalpore è l'annuncio di un bonus da 1000 euro. Ma cosa c'è di vero? Rimani con noi fino alla fine. Ti spiegheremo tutto nei dettagli. Bene, partiamo subito con gli aggiornamenti sugli assegni principali. Dal 16 al 18 ottobre inizieranno i pagamenti dell'assegno unico. Ma non è tutto. Stanno per essere processati anche i pagamenti per l'assegno di inclusione e il supporto alla formazione lavoro. Se sei in attesa di queste somme, il tuo fascicolo INEPS potrebbe essere aggiornato a breve. E ora? Parliamo del famigerato bonus da 1000 euro. Lo avrai sentito ovunque, giornali, tv, social. Ma è veramente confermato? Ecco la verità. Non ancora. Infatti, il ministro Giorgetti ha messo in guardia dicendo che nulla è definitivo fino all'approvazione della legge di bilancio. Quindi, chi ti dice che il bonus è già ufficiale, sta un po' correndo troppo. Anche se questo bonus dovesse essere inserito, attenzione, perché ci vorranno i decreti attuativi per renderlo operativo. Quindi, per ora, dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà con la legge del governo Meloni. Noi saremo qui a monitorare tutto per te, così da fornirti aggiornamenti tempestivi. Non perdere nessun aggiornamento. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo aggiornamento.